com'è questa qua? ehm... qua nada qui c'è qualcosa ma non ne ho idea ehm... qui andiamo a sinistra zatta la grande e zatta la piccola se lo faccio così va così e non voglio che rotoli così ok eh bisogna fargli fare giretti strani per... farla andare dove voglia di qua niente violetta quasi estinta questa specie di violetta si trovava sulle rocce calcare dell'inghilterra terra del sud grazie al comportamento predatorio di botanici umani troppo zelanti la pianta fu dichiarata ufficialmente estinta nel 1930 nel frattempo la violetta dice che sta aspettando che i botanici umani si estinguano e vedremo chi riderà per ultimo ehm... va bene anche così credo e poi ci sono le cose del... perchè tu sei lì? perchè tu sei qui? perchè? una cosa mi serve? molto inutile e... non ho capito 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 no no Qua c'erano i due tronchi che ho messo per andare di là. E i due tronchi si potevano mettere da qualche parte per far spingere di qua? Non credo. Va bene. E anche questo è fatto. Niente. Ah qui c'era. Se ci arriva. Quanto se c'è la strada. Ok. La trisoletta. Poi ti chiedi perché il gioco... non devi odiare il gioco. Bisogna volergli bene con un bocchino speciale. Il fatto che qui non va bene. Bisogna metterci un tronco sulla destra. Così che fermi il movimento della barca. No. Ma ho imparato che bisogna fare il giro intorno alle cose. Sennò non ci fai nulla. Quindi adesso si spinge di qua. Rimaniamo un po' bloccati. E andiamo... Qui. Non dimmi che sono bloccato. Un altro cinese. Questo che va qua. Perché se spingessi quest'albero qua giù e rifacessi il processo non mi darebbe alcuna mano per attaccarmi. A meno che... Interessante. Molto interessante. No. Ah questo cosa serve per andare lì qua. Ok. Faccio il giro da sopra, Sarri. Non c'è voglia di modificare cose. Dove avevamo lasciato? Non c'è nada. C'è davvero strano. Più c'è decisamente davvero strano. Per andare qua. Forse. Forse no qua per andare qua e andare giù. Yes. Vediamo. Forse può andare... Forse può andare sulla sinistra perché c'è un albero a meno che non lo abbatti nell'altra direzione. Non lo so. Non lo so. Sono tanti alberi sprecati qua. Ah ok. Perché quello là arriva... Quello là sopra arriva da di qua. Mentre state due sotto. Pastelli. Questi pastelli umani erano usati a quanto pare per disegnare sulla pelle. Ma lasciavano macchie untuose se usate su muri, carta, vestiti e denti. Per questo sono di molto inferiore ai pastelli dei vostri. In più sono insibili. Si possono mangiare di ci? Questa di qua. Questa di qua. Cosa c'è di qua poi? Boh, tante altre cose. C'è un'isola immensa qua sotto di Nuoria. Quindi... Perchè ti conoscivo da nessuna parte? Perchè ti conoscivo da nessuna parte? Ah no, sono riuscito a rimetterlo per il tasto. Interessante. Posso metterlo qua a fare una barca per spingermi sulla sinistra? Forse. Sembra totalmente inutile questo. Perché mi da parecchio fastidio. Mmm. Sono tutti puzzle alternativi. Tanto alternativi. Ai ai ai. Aspetta. Ho capito. Ho capito. Ho capito. Sono tante meccaniche diverse che ogni tanto continuano a farti perdere la ragione. Allora. La zattera qua per spingersi giù. Quindi. Va bene? Credo. Dovrei tornare alla situazione in cui avevo il tronchetto qua. Va. Non so di scendere né salire. Né scendere né salire. Allora. Perchè se lo spingo sopra. Semplicemente il tronco cade dritto. Avanti. Di rilanciato. Vida bene. Questa situazione non piace. Che poi. Se fosse dritta la barca come la voglio mettere. Non ci sta neanche. Perché? Perché ho questi problemi. Perché ho questi problemi. Perché ho questi problemi. Perché ho questi problemi. Allora. Macchina del fumo. Anche se il nome macchina del fumo richiama l'idea del fuoco è alquanto fuorviante. La macchina del fumo non deve essere incendiata. Più precisamente è una macchina della nebbia. Che sputa fuori un liquido chiamato succo di nebbia. Che si converte in aria densa e umida. Potrebbe essere un modo usato dagli umani per farsi il bagno. Ma le feste sagre è giù. Decidamente. Ok. Di qua invece. Ok. Ok. No. Ok. Allora ce la faccio. Molto interessante. Molto molto interessante. What? Allora. Questo qua. No. Perché solito potrebbe essere. Che tipo gli alberi messi così. Servano principalmente per fermare. Quando arrivi con la barca. Che ti fermi. Quindi tipo parti con la barca. Ti fermi qui. E visto che sei fermo qua. Ti puoi usare sasso per spingerti qui di qua. Ma. Ma decisamente no. Io per lasciarmi un ricordo. Metterai l'indicazione. Fermo lì. E vediamo. Allora. Molto molto male. Molto molto male. Allora. 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 Perché questo qua. Posso andare su e spingerlo da giù. E questo qua non so cosa farne. Lascia lì. Vediamo. Trappola per le lettere. Mentre erano alla ricerca del sistema postale umano. Gli esperti hanno montato nel museo diverse porte d'ingresso sperimentali contenenti delle trappole per le lettere. Si aspettava che le trappole acchiappassero le lettere vaganti. Ma purtroppo sembrano solo raccogliere volantini dai colori accesi che contengono offerte infrasettimanali sulla pizza. PIZZA! E abbiamo fatto anche il giro di qua. Incredibile. Cioè a questo punto qua. Che non ho idea. Che non si. Non ne ho altamente idea. Questo punto qua che è quello che adesso si potrebbe fare per vedere qualcosina. Vediamo. Allora però per andare di qua bisogna fare tanti giri. Quanti sposter qua. Quanti sposter qua. Giù. E ci siamo. Vediamo questo qua com'era la situazione. Allora siamo arrivati da di qua. Il tronchetto qua percorrere la strada. Ma ce ne sono tanti altri. Questo qua si potrebbe usare la stessa identica situazione della barca per, usando il pietro contrario, per spingersi qua e andare di qua. Però la barca deve essere per la dritta. Per la dritta. Per la dritta e sennò non va. Questo qua cade qua. E non mi serve. La barca è una barca anche di qua. Eh... Ma ci siamo riusciti l'altra, no? No, se lo spingo ci succederò. Sì, sorry, dai. Ce la faccio, eh. Questo qua non è veramente chiuso. No, no, no. Ok, su. E a destra. Cocomero. Inizialmente si pensava che fosse un semplice composto delle parole umane. Cocco e mero. Ma ora sappiamo che l'etimologia dei Cocomero era dovuta soltanto al fatto che assomigliava la testa di un famoso pulcino nero. Cocomero... Pulcino... Eh, non ne ho idea. E... Lo utilizzo così. No, no, lo utilizzo sbagliato. Perché lì si blocca. Lo utilizzo così. Lo utilizzo... No, aspetta, era giusto qua. Era giusto qua. Così. 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 Via. Via. Yes.